In prospettiva, mantenendo questi numeri, diciamo tempo un anno, scaramanticamente dovremmo superare i 600 studenti e tornare all'autonomia piena. Quindi un dirigente stabile che può stare ogni giorno al lavoro e un DSG a stabile. Per l'anno scolastico 2016-2017 il liceo Volta di Como potrebbe tornare autonomo. Chiuse le iscrizioni pochi giorni fa, i primi dati fanno ben sperare. Sono infatti 154 i nuovi alunni pronti a varcare le storiche aule, 115 per l'indirizzo classico, 39 per lo scientifico che sarà avviato a settembre. Numeri che, pur di poco, ancora non consentono di superare la quota di 600 studenti, soglia stabilita per legge per conservare l'autonomia piena. Perciò, per l'imminente futuro, si continuerà a condividere presi dei direttori dei servizi generali e amministrativi con il liceo Teresa Ciceri. La buona risposta, ottenuta al debutto dalla nuova sezione di liceo scientifico, permette però di essere ottimisti. 40 studenti che sono iscritti alla sezione di scientifico fanno ben sperare per il futuro, perché avremo, nella migliore delle ipotesi, 5 quarte ginnasio e 2 prime di liceo scientifico. Non credo che l'anno prossimo, per esempio, sulle iscrizioni allo scientifico, potremo anche presentare l'esperienza di un anno che quest'anno non abbiamo potuto presentare. Però io sono ottimista, devo dire la verità, sono ottimista perché la risposta è stata positiva. Necessariamente, dunque, il Volta, che come gli altri licei classici italiani ha visto negli ultimi anni un calo di iscritti, ha dovuto ampliare l'offerta formativa. La sezione scientifica noi l'abbiamo vista un po' come parte della tradizione del Volta, perché le sperimentazioni precedenti erano in quella direzione, molti dei nostri studenti frequentano facoltà scientifiche, quindi c'è stata l'esigenza di introdurre un nuovo corso, però, come ho già detto in altre occasioni, erano vari anni che si pensava di potenziare l'offerta formativa. Quindi è venuto proprio naturale pensare al liceo scientifico. Ma perché il classico ha perso di attrattività? Molti hanno spiegato i numeri alla luce della crisi economica degli ultimi anni e alle valutazioni delle famiglie sul percorso universitario e sulle prospettive di lavoro per i propri figli. Non credo che questo sia un elemento decisivo, perché altrimenti dovremmo pensare la stessa cosa di tutti gli altri licei. Il mondo classico affascina, evidentemente, e qui è una nostra responsabilità, dobbiamo renderlo più vicino alla sensibilità delle nuove generazioni. Credo sia quella la motivazione.